La Corri Sernia ha aperto le porte ai campionati italiani di corsa su strada organizzati dalla nuova atletica Sernia un mese fa. Con la stessa passione e professionalità, lo staff di Agostino Caputo ieri è sceso per le strade del capoluogo di provincia con la nona edizione della Corri Sernia. La Kermess ha visto i nastri di partenza tutte le generazioni, atleti, professionisti e non solo. Per le due prove agonistiche naturalmente ci sono stati dei vincitori e dei vinti. Partiamo dalla Corri Sernia dove a trionfare è stato l'atleta di casa Giovanni Grano che ha scelto insieme al suo tecnico Di Pardo di non prendere parte all'americana in vista dell'impegno di domenica prossima in Germania quando sarà sulla linea di partenza della Maratona di Berlino. Buono il tempo di Grano, 32-27. Alle sue spalle il marocchino Yannès Zitouni a completare il podio Alessandro Rescigno. Sul versante femminile invece ad imporsi è stata la marocchina La Raichi della Finanza Sport Campania. Seconda Paola Di Tillo del gruppo sportivo Virtus a chiudere il podio Ilaria Novelli del Cus Molise. Anche quest'anno la gara pietese è stata la corsa americana con al via 20 atleti. Primo posto per il portacolori dell'esercito italiano. Dopo Meucci ieri ha conquistato il primo posto Razzine che ha preceduto con uno sprint finale Patrick Nasti delle Fiamme Gialle, bronzo per Donofrio, altro allievo di Luciano Di Pardo, migliore dei molisani il virtussino Leo Paione. Queste le gare con classifica finale, ma la giornata iniziata nel primo pomeriggio ha visto i nastri di partenza veramente tutti. Anche quest'anno la NAI ha portato avanti diversi progetti sociali. L'Unitalsi ha aperto le ostilità, poi la gara di 3 km a 6 zampe riservata ai proprietari di Cani. Ancora momento sociale di integrazione, la gara dove hanno preso parte i migranti, ospiti della struttura di Sant'Agapito a Monte Ruduni. Tra le altre iniziative una classifica particolare legata ai donatori di sangue in virtù della partnership con l'Avis. Non può che essere soddisfatta la nuova atletica Isernia che al termine della giornata ha tracciato un bilancio positivo della non edizione della Corrisernia che cresce nei numeri, cresce nelle iniziative ed ha regalato alla città di Isernia una giornata di sport allo stato puro.